Nooootte, notte o mai tardi Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Chiamaro89 Siamo tornati in una nuova posta della posta di Ciccio Un nuovo appuntamento della posta di Ciccio Come sempre con noi chiamiamo Ambrocio Eh, comunque è birillo Ah, c'ha ragione, è birillo Eh, 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 è birillo Ma poi perchè son programmato bene? Eh, c'hai ragione, eh Però perchè adesso sei sardo nuovamente? Eh, perchè mi ha fatto incazzare Ah, eh, scusa, ah Eh, non permettere più che io tagliare gola No, eh, se sapevo mi mettevo il cappello Eh, da chi? Quello è siciliano Eh, vabbè, è uguale, no Siamo in un nuovo appuntamento della posta di Ciccio Con Ambrocio Voglio vedere che cazzo è questo Ambrocio mo Chi è? Chi è questo Ambrocio? Chi è? Jack Sparrow un'altra volta Guarda che roba Ti è becca Allora, io c'ho questi Ah, io c'ho questi Oh, iniziamo qui Anche voi come sempre Si, come Ok Qui c'è un gioco sicuro Qui... Sordi No Mi sa una collana Ma tu devi farla per forza sardo tutte le orte? Eh, io so birillo Eh, adesso non... Io parlo come cazzo ma paremmi Zondo yo Eh, che... vabbè, lasciarlo in giapponese Zondo yo Vabbè, lasciarlo in giapponese per tutta la puntata Zondo yo Zondo yo Zondo yo Zondo yo Zondo yo Me lo manda? Non lo so Junzi Non lo è? Non c'è scritto, beh? Karim Kevin... ah no Ce lo manda Kevin Ce lo manda Kevin Karim? Ce lo manda Kevin, giusto? Kevin Qua c'è scritto Kevin Via Vabbè Kevin Ok Da Da Do Allora, innanzitutto perché mi hai mandato una sigaretta tra l'altro C'è finta Per quale motivo? Che ci devo fare con una sigaretta finta? Eh, fin qua Ci siamo Va bene Poi mi ha mandato una renna Alla Quello cazzo lo sentiamo là Ma che cazzo ho sentito di... Ah, eccola perché ho sentito una collana 10 centesimi Grazie Oh, cominciamo a salire? Oh, vieno vieno, da 5 centesimi Eh, no, però non è che Guarda Eh, ce l'ho anch'io scolorito C'è il braccialetto, mamma mia Se lo metto io esplode No, invece no Guarda Me lo sono messo E mi son messo il braccialetto Va bene E... I segni di suo fratello mi ha fatto lo stemma di Batman Ah Che cacchio E poi E poi E poi Un Batman Un altro Batman Però qua c'è la lettera Questo è il mio Vabbè Il numero di telefono Va bene Eh... Ciao cicciochipro89 Mio fratello siamo due fan Mi chiamo Kevin Ho 12 anni Mio fratello Luca Ne ha 7 Vogliamo dire che sei magnifico E divertentissimo Ho fatto qualche disegno per te Grazie mille Grazie mille ragazzi Grazie, 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 grazie Grazie mille Passiamo all'altra Questo ce lo manda Andrea 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 Ok Andrea Ho capito Andrea Oh ma qui è roba raffinata però eh Si Pure fatto spillato Ah si Che stai professionalità Guarda che bello Ambrogio Ciambirillo Un Batman Cicciochipro89 Bye Andre Guardate qua Poi leggiamo Ecco vi faccio vedere qua Esatto Ok Ciao ciccio Io sono un tuo grandissimo fan Ho 14 anni Anche se ti seguo da poco Mi sei entrato nel cuore Con le tue serie Il tuo umorismo Mi ralleghi la giornata Se potessi Verrei sotto casa tua A urlare C'è tipo pazzo Aaaaaaah Sotto casa aaaaaaah Ok Sei un grande cicciochipro89 Prendendo spunto da te E da altri youtuber Ho aperto anch'io un canale Eh Ho già fatto qualche video E va bene ok Spero che il disegno ti piaccia E ti vorrei davvero Ti sarei davvero grato Se lo potessi vedere Appeso dietro di te Saluti mai al tuo fan Fanatico Ah ok Volevo chiedersi Se avevi l'Xbox 360 Si ho l'Xbox 360 Cioè io ho tutte le consorte Anni PlayStation 4 Esatto Ok perfetto Grazie mille carissimo Grazie mille Stiamo andando belli spediti eh Questo ce lo manda Filippo Filippo Ed è un gioco Allora Vai Ormai Ormai Lo sapete che quando c'è sta una cosa che assomiglia a un gioco Noi partiamo con le scommesse È un gioco È un gioco Tu dici che è un gioco Un gioco Xbox 360 Per me E te l'hai capito che è un gioco Xbox 360 Puzza di Xbox Puzza Xbox Puzza Xbox Senti che puzza Ma io invece ti dico una cosa Per me è puzza di PlayStation Puzza di PlayStation Mmmmm Si si Assoluto più PC No Gioco PC No Diciti Gioco PC Gioco PlayStation Gioco PC Va bene Questo qua ce lo manda Me lo manda Filippo Va bene Allora Filippo È nero ma sa che c'hai ragione È un gioco PC Cazzo ci ha preso sto bastardo È un gioco PC PC Ok mi ha mandato Metal of Honor Pacific Assault È vero Grazie mille PC Bastardo ci ha preso una volta Ci ha preso una volta Non è vero sempre Ma non è vero mai Ci ho preso troppo Ma che ci hai preso T'ha detto un sacco di culo Sono troppo forte Keep calm and love Ciccio Game 89 Ciao ciccio Io sono ragazzo di Padova Ti ho conosciuto l'estate scorsa Per questo mi è uscito il tuo canale Eh Da quando mi è uscito il tuo canale Non ho più smesso di guardarti Ogni giorno aspetto con Fervore e ansia i tuoi video Che mi danno la carica Al 100% di questo Ti vorrei ringraziare con tutto il cuore Con questa lettera Ti allego la fan arte E il gioco Metal of Honor Un po' vecchietto Ma te lo do Perché è uno dei giochi Che preferisco in assoluto E vorrei che ne facessi una serie Per la serie vediamo eh Mi dispiace che non possa regalarti molto Vedrò di mandarti qualcos'altro Ma non ti devi preoccupare mai Non ti preoccupare Già una letterina È già tantissimo Comunque Ciao Filippo Con affetto Filippo Eh Non mi sono dimenticato Io ti ho 12 anni Ma tranquillo Ciao Filippo Grazie mille Filippo Poi ci abbiamo Allora decidiamo insieme No il tubo dopo Il tubo dopo Eh ma senti qua Aspetta Non ti da C'è un altro cubazzetto Non ti mette un po' di... Allora il tubo Il tubo che? Allora il tubo Il tubo Ipoteticamente dovrebbero essere Due persone differenti C'erano elasticata in bocca Sono sotticato in faccia Allora Vediamo un po' eh Il primo Il primo È Nicola Nicola È Nicola Questo qua viene da... C'è una domanda Nicola E... Sicuramente sarà un disegno A 100% Eh vabbè che la salca Sicuro 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 Ha fatto una frittata Un blocchetto di buoni pasto gigante Eh sì madonna E quindi facciamo molta molta attenzione Ad aprirlo Vediamo un po' eh C'è altro? Non credo Vediamo un po' No Ok Non c'è altro Allora Prima di vedere il disegno Che tra l'altro Vabbè intanto Lo vedo subito Sto diavoli Cccm89 Minecraft Batman Rise of Rome Dragon Ball Vabbè insomma Ci ha messo un po' Anche a me sai La druca Allora Fatto da Nicola Cristian E Giacomo Vabbè Scrittore Disegni Ok Praticamente è un team Ognuno ha fatto la sua cosa Eh Laguna matata Cambiando la comunità italiana insieme 200.000k Cioè O lui ha prevenito Cioè Ha prevenuto S'ha anticipato Ha detto Ha prevenuto forse Esatto Ah no Dai che ci arriviamo Ah ok Era un portafortuna Eh Grazie mille ragazzi Gentilissimi Aspetta che abbiamo il tubo Questo qua Ce lo manda Enrico Ce lo manda Enrico E sarà un casino aprirlo Non è che stai coriandoli Qui sta più Sotto c'è sta quello che girà Ok Se i giorni dopo Ho detto qualcosa di De 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 Un po' Aspetta No Aspetta un attimo Che cazzo E' Ma non è che è tipo un babba enorme E' duro C Come è duro? E' duro Ma che cazzo è? E' tutto tranne che un disegno? Ma è cioccolata sono cioccolatini! sembrava un disegno in realtà! si bagna! sono cioccolatini! guarda! è pieno di cioccolata! aspetta! ovviamente come sempre! no aspetta! bisogna degustarlo! ma non mi di che è un tubo pieno di cioccolatini? pensa di sì! io pensavo che era un disegno! io pure! aspetta! non lo so! mi bagno pure il cartone io! aspetta! però sono tutti confezionati una volta! c'è uno! questo è tipo una cosa in grado! prova a tirare da qua! dai! vai! cioccolatini ovunque! ma sono tutti i facottini dei cioccolatini! guarda! ma questo è un grosso eh! questo è proprio forte! guarda! è pieno di cioccolata! aspetta! ce n'è ancora però! guarda! ma questo è tipo un cannone! ah però c'è la lettera! vedi cosa c'è altro? guarda quanti cioccolatini! è diventato scemo tutto insieme quando vedete due cioccolatini questo! no è pieno di cioccolata regà! no non vedo nient'altro! è pieno di cioccolata! e invece sì! 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 che c'è? c'è un foglio incastrato! aspetta! fammi vedere! fammi vedere quel foglio incastrato! è benorme! guarda! si vede subito! guarda! con la luce! basta lo guardi con la luce! senza che c'è finchi l'occhio dentro! se vede! che c'è un foglio! ma guarda che c'ho sul letto! eh! ma guarda che c'ho una felpa! sì! una felpa c'è! io li ho preso pure quello scioccolato bianco! me ne dai uno pure a me a scioccolato bianco! eccolo qua! tanto ormai ci stiamo! maniamosi! mmmm! scioccolato bianco! grazie! mmmm! no no no! ok! allora ci abbiamo! dunque voglio! ci ha messo! ci ha messo! ci ha messo tanto a farlo! allora mi dà! eh! è un batman grandissimo! con l'insegna ciccio gamer! non è un pauro! no! oh no! comunque è bello! molto bello! complimenti! grazie mille! ci abbiamo la bocca impastata di cioccolata! poi? e ci abbiamo una lettera! chi ce la manda? ve l'ho detto chi ce la manda! sempre lui? sì sì! allora! ciao ciccio! ciao ciccio! se stai leggendo questa lettera! allora le poste hanno finito di... tra... hanno finito di... questo sito... di... trollarci! di trollarci! scherzo a parte! mi chiamo Enrico! in arte... vabbè! mi chiamo Enrico! ho 16 anni e ti iscrivo dalla provincia di Firenze! ti seguo da fine dicembre e mi sono innamorato di te fin dal primo video che ho visto! seguo tutte le tue serie ma quelle che preferisco sono Medieval 2 che tra l'altro è finita da poco! come hai potuto notare Batman e Arkham... Arkham Origin! sei veramente una persona speciale! ogni volta che torno a casa a prescindere dalla giornata sono felice perché so che ci sono i tuoi fantastici video da aspettarmi! metto mi piace e condivido tutti i tuoi video ancora prima di guardarli perché so che saranno ebici ed infatti non mi diludi mai! grazie mille! ti auguro tutto il bene di questo mondo! una lunga carriera su youtube! un abbraccio! gira la pagina! grazie mille Enrico! sei gentilissimo! pps! occhio allo sfondo del disegno! realizzato con carboncino ed è facile che venga attaccato che venga via toccandolo! spero ti piaccia! mi auguro che Ambroggio, Joker, Berillo e tua madre gradiscano i dolcetti che ci sono nel tubino! a quanti stai? eh? no! a quanti? dillo! dai dillo che tanto ti hanno ripreso eh? due! mortacci di te! non penso di ehm... non li gradisco! no! no! ciao a te tutta la tua famiglia! grazie mille carissimo! comunque guardate adesso aspetta eh! mortacci tui! metti qua questi cioccolatini bastardo! li prendo io dai! metti qua tutti! no! metti qua i cioccolatini che devo far vedere quanti ce ne ha mandati! basta! guarda! ma c'è un altro sacchetto! quanti due sacchetti c'è stanno! basta un cacchio! madonna quanti sono! ma questo è diverso! si! è un facottino! ma dai eh! cioccolatini? guarda! che c'è qua? no! non c'è niente! ciccio! eh sì! ci stanno i cosi! ragazzi lo sto distribuendo cioccolatini! cioccolatini! va finito! e poi c'è questo mazzi! e poi mettilo qua sopra che... bling! i cioccolatini! riposa! ce lo manda Fabiola! ciao Fabiola! ciao Fabiola! grazie mille Fabiola! t'ho visto sai Simo? no! è vero! guarda che t'ho visto! non ho preso niente! t'ho visto tantissimo! non c'ho niente! ma invece non ci vediamo mai! non c'ho niente! allora! ci manda un pacchetto di big money! ah no ma dai quanti sono! esatto! perché ormai con i big money... ti ci pulisci! hai capito? ehm! lo sa Fabiola ha capito tutto dalla vita! quindi! ehm! ci abbiamo quello! guarda che carino! è bellissimo! che cos'è? guarda! guarda! è un cino delle ore! aspetta! 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 uguale! è bellissimo! grazie mille! lo mettiamo qua! veramente! e poi c'è tanta tanta tanta... c'è la lampe luce dietro! c'è tantissima altra roba! allora! vedi che bello! eh! the legend of ciccio! complimenti hai trovato la busta dei desideri! e la madone che ho trovato! oh! oh! e mo qua dentro ci sta tipo una cosa... fantastica! c'è la busta dei desideri! io desidero un pacchetto di buoni pasto! tu fai schifo! più che ditte quello! ok! ho visto che casca qualcosa! no! esatto! uh! e si vede che comunque è una ragazza eh! non lo leggerò mai nella vita! no! perché è mia va regala! no! 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 perché non... ciao ciccio! si! si! siamo... yes! non ho capito! vai vai! siamo? si! lettera macinante! ciao ciccio! si! siamo? si! siamo delle due grandi fan! 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 siamo dei grandi fan! fanbibola eeeh... fiancate... faicaz novantaquattro! faicaz novantaquattro! di diciannove anni! si! ti ricordi di me? delle? delle... le ragazze che ti scrivono eh... sulle live... e che scambiavano per lezzo... e... le cose... E che hai incontrato il suo amico Ah ok Sì sì me le ricordo Me le ricordo Eh? Sorella Letizia Di 25 anni Questi sono grandi Eh lascia fare Scriviamo Ogni giorno Seguiamo ogni giorno i tuoi video Dato che Ci divertono tantissimo E ci aiutano a Distrarci Dagli impegni quotidiani Ok Ah ma tu non sai perché io sto ridendo Poi vabbè No no non è questo Quello è bellissimo Devo dire che non ho seguito Youtubers così spesso E questo perché Youtuber tra quelli che seguo Mi ha strappato È difficile 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 Hai instaurato un rapporto così profondo E sicuro con le tue scritte Oh grazie mille Ho provato rabbia Ho provato rabbia Delusione E gioia insieme A te Ed è stranissimo Visto che non ci sono Non ci siamo Di persona Ok Spero tu riesca a venire a Napoli Io mio amico Siamo i tuoi Fieri Seguaci Ok E non vi diamo l'ora di incontrarti Inoltre il comic con dovrebbe essere Al inizio di maggio Sì Proprio quando compio gli anni Ed è mio compleanno Così ci sarebbe D'addio Oh vedi Perfetto Sono sicuro che tu Rimarrai quelle persone adorabili Rimarrai quella persona adorabile Che sei Diciamo Grazie mille Quando raggiungerai Numeri sempre più alti E lo farai E lo farai E lo farai Sei bloccato il birino Dardo Lo farai Senz'altro Senz'altro Aguri per la tua ragazza Grazie Carinissima Merdi indubbiamente una persona che ti sostiene E che sia al tuo fianco Grazie mille Baci Aguna matata Salute per Ambrogio Siete dei grandi Grazie mille Io mi fanno un mar da testa E solo per questo A Napoli Se vediamo Mi dite big money Ok PS Allegando alcune fan art Sì Fatte da mia sorella Con un piccolo Pizzichino Pensierino Un pizzico pensierino Spero ti piacciano Ok Ragazzi ho messo sei ore Per la testa Grazie mille Ma questo va appeso Ma era difficissima la scrittura Guardate che spettacolo che è questo Sì è fisico Guardate Sì no tu non hai visto questa Sei pronti a fare Grosse e grasse risate Chiudi l'occhi Chiudi l'occhi Te faccio vedere qua Suo schermo Vado Vai Ma che cos'è Le ragazze di ciccio Ma c'è una barba Eh ma mi sa che Quello centrale Sono tipo io Possibile No ma mi sa che tu Questo sei tu Ah sì C'ho io C'è il piercing Ma questo non è Sei tu Dexter e Pio Potrebbe essere Ma ma che corpo da sorca Hai visto che roba Guarda il Joker Vedi No Twirk Che Joker Ah twirk Se ne buttate pure firmate Comunque pensa che Questo so io sicuro Eh sì Questo so io Dexter e Pio 3D Secondo me Quello che Siamo io Dexter e Pio 3D Esatto Le ragazze di ciccio Secondo me sì E quella al centro So io So proprio una preghiera Sono pure due belle tette Comunque sì Questo lo appendo Questo lo appendo tantissimo Comunque signori Io direi che l'appuntamento Di oggi può finire qui Sì sì Grazie mille Io adoro gli orsacchiotti Poi questo è bellissimo È un leoncino quello Sì è un leoncino Così lo metto vicino a Pumba Quindi signori Se mi volete Fati famo il film Se mi volete mandare qualche cosa In biografia C'è tutto quello che vi serve Esatto Tutto quello che vi serve Pollice in su Commentate Condividete A prossimo appuntamento O in vostro Ciccano89 Ciao